Pace bene a te, pace bene a voi, sono Padre Paolo e volevo condividere insieme con voi alcuni pensieri attorno al rapporto di San Francesco con la morte. Sappiamo dalla sua storia di vita che lui conclude la sua vicenda dichiarando la morte come sorella, questo lo mette anche nel Cantico delle creature ed è interessante come il suo letto di morte che di fatto poi è la nuda terra si trasforma in una cattedra dove lui insegna ai suoi frati a vivere affermando questa, è un'affermazione veramente sorprendente, dice ai frati frati diamoci da fare perché fino adesso poco o nulla abbiamo fatto, abbiamo concluso ed è interessante che appunto questa affermazione venga detta da un santo che è uno dei più grandi santi della storia della Chiesa, consapevole probabilmente di questo suo magistero che qualsiasi tipo di morte, che sia la morte ultima come il nostro ultimo giorno di vita, ma anche tutte quante le altre morti che possono essere delle morti affettive, delle morti professionali, delle morti anche dei nostri sogni che in qualche modo vanno a infrangersi contro una realtà più dura delle aspettative, in realtà diventa o può diventare il trampolino di lancio per una trasformazione, per un passo ulteriore e quindi anche per una maturazione umana, ma è banale perché appunto fa storia anche di quello che si è acquisito, di quello che si è imparato per poi rilanciarsi nella vita facendo alleanza con la vita, nonostante la morte, oltre la morte, attraversando la morte e questo è sicuramente un grandissimo insegnamento di Francesco che lui prende da dove? Prende dal Vangelo evidentemente, dal Vangelo di Giovanni, per lui è molto caro il versetto che dice se il chicco di frumento caduto in terra non muore e resta da solo, se invece muore porta molto frutto e sicuramente questa è stata la vita di Francesco e questo è stato e resta e resterà il suo magistero.